accendi un polo ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere un prodotto da quadro elettrico diciamo per gli smanettoni veramente veramente interessante lo troviamo dai nostri amici di expert for house il nostro fornitore di tutto quello che riguarda la domotica sonoff tuya stanno ampliando il catalogo ci sono una miriade di prodotti veramente sono contento perché siamo partiti con questa realtà che ha iniziato importare prodotti diciamo smart e che pian piano sta diventando un catalogo di tutto quello che esiste veramente incredibile e parliamo di roba che già in italia 24 48 ore ce l'avete a casa adesso chiaramente è un video che viene fatto a cavallo delle ferie in agosto quindi magari i tempi cambiano leggermente quello di cui parliamo oggi è una cosa che mi chiedete spesso e non ero ancora riuscito a trovare un prodotto di cui poter dire che ero soddisfatto e che potevo proprio consigliare perché tempo fa avevamo provato un magneto termico domotizzato da da quadro elettrico ma non era proprio fantastico era un po limitato procedure particolari invece adesso ve ne faccio vedere un modello nuovo che ho provato della tuya che è veramente veramente interessante vi dico subito che esiste monofase un polo monofase due poli trifase con tre poli o trifase con tre poli più neutro oggi proviamo le due versioni monofase quindi da quadro elettrico sono dispositivi wifi per tutte le loro funzioni la gestione l'appi con bandi vocali eccetera serve una rete wifi a 2,4 gigahertz non sono zigbee non ci sono zigbee sono tutti wifi e chiaramente tutte le funzionalità che hanno funzionano solo con la connessione attiva premetto subito che non sono dei magnetotermici ma sono dei semplici interruttori smart che però vedete sono assolutamente programmabili tant'è vero che potrebbero addirittura sostituire magnetotermici normali perché hanno una regolazione molto più precisa e con un dispositivo potete gestire da 1 a 80 ampere ma basta spoilerare vi ricordo solo di iscrivervi al canale che non costa nulla è gratuito mi fate crescere mi date un grosso supporto così da portare prodotti sempre più interessanti andiamo avanti col video prima lo spacchettamento poi facciamo un po di prove allora due smart circuit breaker cosa cambia da uno all'altro uno si chiama TO QC B280 anche l'altro si chiama TO QC B280 ma la differenza è che sono tutti e due C63 quindi 63 ampere ma sono il modello a un polo e il modello a due poli bipolare comunicazione tui a wifi vediamo le differenze dunque come costruzione qui abbiamo un modello bipolare dove però viene comunque segnato il polo neutro sopra l'ingresso e sotto l'uscita abbiamo automaticamente già montato il sensore il TA che sente il passaggio sulla fase qui abbiamo il modulo wifi motorizzato qui abbiamo un pulsantino e qui abbiamo un lucchetto di blocco la costruzione non è male abbiamo il blocco sulla baradine che avviene sulla parte superiore quindi non abbiamo però la molla dobbiamo metterlo con i blocchi aperti e poi chiuderli ne abbiamo due i morsetti sono ampi e ben dimensionati quindi tutto bene chiaramente occupa tre moduli poi abbiamo la versione a un polo dove abbiamo il collegamento della fase in ingresso e della fase in uscita anche qui c'è già il TA montando internamente che fa le letture cosa vuol dire vuol dire che però per alimentarlo abbiamo bisogno di andare a prendere un altro neutro cambia poco e nulla perché comunque abbiamo la protezione sulla fase la misurazione sulla fase può cambiare chiaramente a livello di cablaggio perché non abbiamo il neutro di appoggio quindi dobbiamo fare un'aggiunta tra i neutri e poi siamo magari scomodi perché dobbiamo andare a mettere il puntalino però alla fine le funzionalità che fanno sono praticamente le stesse col vantaggio che se siamo risicati qui risparmiamo un modulo per chi ne occupa solo due allora proviamo ad alimentarli un attimo a banco per capire come funzionano come si aggiungono poi chiaramente faremo un'installazione per quadro così li testerò per un po' e vediamo come si comportano e come rimangono montati allora partiamo col modello bipolare quindi diamo alimentazione i morsetti sono abbondanti ma siamo comunque riusciti a prendere correttamente anche un filo da uno e mezzo dunque mettiamo il dispositivo in accoppiamento quindi proviamo a tenere pairing fa questo lampeggio particolare dovrebbe essere in pairing diamo più aggiungi dispositivo e vedete che viene immediatamente trovato lo selezioniamo adesso trova la rete wifi dobbiamo mettere la nostra password facciamo la connessione vedete che va avanti l'avanzamento lui fa l'aggiunta perfetto qcb2 wifi aggiunto fine l'app smart life si riavvia entra già nel dispositivo noi usciamo allora il dispositivo lo vediamo qui nella home disegnato esattamente per quello che è e questa è già una cosa molto carina che non spesso succede perché molto spesso i dispositivi diciamo per la domotica fai da te vengono visualizzati un po così magari si cambiano le icone eccetera qui abbiamo questo aggiornamento nell'app smart life dove vediamo effettivamente il dispositivo a colpo d'occhio anche senza cambiare nome sappiamo già qual è vedete che diventa blu il wifi che lampeggia regolarmente quindi è connesso entriamo dentro abbiamo già la visualizzazione che anche qui è molto carina molto più curata del solito dove misura la tensione la temperatura quindi rileva anche la temperatura di del luogo dove è montato non abbiamo corrente e watt perché non stiamo misurando niente tra l'altro ancora spento lo accendiamo il led diventa rosso fantastico adesso segna un consumo di 0.02 kilowattora che è chiaramente un errore di lettura o addirittura potrebbe essere il suo autoconsumo il lucchetto me lo sblocca e si sblocca anche lì qui c'è proprio un buco quindi mettendo un sugillo un lucchettino un cacciavite quello che è sono già riuscito a rigarlo praticamente si mette un fermo qua che impedisce di armarelo e questa cosa potrebbe tornare utile se non vogliamo che venga armato per svariati motivi basta tenere bloccato lui mettendo qualcosa dentro un lucchettino però deve essere molto molto piccolo e di bisogna studiarsi qualcosa lui comunque mi impedisce di armarlo va bene lasciamolo in condizioni normali e diamo un'occhiata all'app dunque qui abbiamo la home come abbiamo già visto vedete che lo stacca di brutto poi lo riarma poi lo stacca di brutto molto bene allora nella home abbiamo già visto tutto qui abbiamo gli ultimi l'ultimo evento ma possiamo accedere a tutto lo storico sotto non c'è nulla chiaramente abbiamo la possibilità di aggiungere dei timer in base al sole al sole che cala o semplicemente facendo delle programmazioni per i giorni della settimana qui abbiamo delle impostazioni quindi possiamo impostare la corrente di sgancio perché lui arriva fino è un 63 ampere ma in teoria possiamo impostarla da un minimo di un ampere a un massimo di 80 ampere regolazione dello stato chiuso allarme o protezione quindi una volta raggiunto l'amperaggio possiamo decidere cosa fare molto molto interessante magari poi vediamo di provarlo dal vivo regolazione dello stato chiuso allarme protezione allora protezione scatta allarme manderà una notifica chiuso bisogna capire cosa fa poi possiamo impostare anche una sovratensione quindi arrivati a 280 volt ma io direi anche meno anche 250 volt 249 cosa fa fa una protezione quindi uno sgancio è diviso vedete per cartelle quindi possiamo fare una protezione da corrente che sgancia una protezione da sovratensione che sgancia una protezione da sottotensione che cosa fa chiuso dobbiamo capirlo sovralimentazione in watt oppure anche al raggiungimento di una temperatura quindi sono tutte opzioni molto molto funzionali e molto interessanti e le che starebbe per elettricità qui abbiamo un grafico quindi possiamo scorrere nel giorno o nel mese o nell'anno per tenere traccia di tutto quello che è stato misurato un registro che è quello che in buona sostanza viene riportato qui negli eventi nella home ma possiamo poi accedere a tutto lo storico completo poi abbiamo i tre puntini da cui possiamo andare a cambiare il nome dispositivi di terze parti info dispositivo scene creare un gruppo controllare la rete questo riguarda il wifi possiamo condividerlo e gestire le notifiche attivare la notifica quando è offline aggiungere alla schermata home controllare se c'è aggiornamenti firmware la grafica semplice mi è piaciuta però perché anche i colori vedete che sono molto armonici con quello che è il colore delle plastiche mi è piaciuto molto il fatto che a colpo d'occhio lo vedo subito lo armiamo e questo è quanto non abbiamo molto ma quello che abbiamo mi sembra interessante quindi non resta che fare qualche prova intanto ho provato anche questo ed è la stessa cosa ma cambia solo il form factor e il collegamento per alimentarlo allora volevo fare delle prove adesso l'ho montato a banco per fare il test di tutte queste impostazioni volevo lavorare coi watt adesso vi faccio vedere come dunque qui possiamo impostare ad esempio vediamo un po 1485 watt che fa protezione di sgancio sugli amperi ho lasciato chiuso oltre i 280 volt sgancia sotto i 165 chiuso chiuso secondo me non fa nulla ma lo verifichiamo oltre 1485 watt deve sganciare allora torniamo alla home adesso è staccato evento normale non c'è consumo vi faccio vedere come si comporta ho una pistola termica impostata adesso a velocità 1 che dovrebbe fare sui 1000 watt quindi attivo vedete 4 ampere 1052 watt tutto normale se io metto a velocità 2 vedete che stava tirando 2000 watt tempo di ragionare su sta cosa e ha staccato mi arriva la notifica evento interruttore per sovra potenza ora andiamo su questo 1485 watt cambiamo da protezione a allarme e vediamo cosa succede 1056 watt non fa nulla attiviamo 2 vedete che mi è uscito un allarme di sovra potenza che poi va via andiamo a vedere nelle impostazioni se c'è il modo di ricevere invece una notifica per questa cosa non abbiamo modo di ricevere delle notifiche di questo tipo quindi allarme abbiamo visto che in buona sostanza lo notifica dentro l'app però avevo l'app aperta proviamo a fare il tutto con l'app chiusa magari cambia lo metto direttamente a 2 sono arrivate un sacco di notifiche ma non di smart life quindi entriamo di nuovo nel dispositivo cambiamo l'impostazione proviamo a vedere cosa fa con chiuso nulla di nulla quindi cosa abbiamo capito abbiamo capito che con chiuso sono delle impostazioni che noi possiamo magari impostare perché sono quelle che usiamo di più però quando non le vogliamo attive basta mettere chiuso poi abbiamo qua delle opzioni che non avevamo visto prima ripristina interruttore predefinito vuol dire se dopo l'esecuzione dell'operazione tutte le impostazioni delle funzioni vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica chiusura automatica disponibile solo dopo la protezione da sotto sopra tensione soglia di attivazione soglia di esportazione di impostazione quindi menu che non sono ancora molto chiari bisognerebbe poi fare degli approfondimenti magari col tempo cercherò di capirne qualcosa in più invece tutto il resto direi bello perché queste impostazioni funzionano mi piace particolarmente possiamo quindi gestire varie tipologie di interruzioni per determinati criteri scenario creiamo un nuovo scenario direttamente smart life come criterio di partenza diamo uno stato del dispositivo prendiamo il cbqs2 e vedete che come criterio di partenza abbiamo una sovra potenza quindi non possiamo impostare da quel valore ma possiamo impostarlo dentro il dispositivo e poi in base alla risposta che viene data possiamo far partire un automazione abbiamo anche una soglia di kilowattora possiamo farlo funzionare anche da termostato però secondo me rileva la temperatura dove è montato il modulo chiaramente non dell'ambiente interruttore on off quindi se attiviamo disattiviamo lui possiamo far attivare insieme qualche altro dispositivo soglia di sovra potenza di temperatura sotto uguale o sopra mentre qui avevamo sotto uguale o sopra vabbè sembra un doppione chiusura automatica evento quindi in base a tutta una serie di eventi insomma abbiamo parecchie parecchie opzioni energia totale iniettata impostazioni temperature insomma tantissime voce magari tanti sono i doppioni però ci dà parecchie possibilità anche in eventuali automazioni non male mi piace questa cosa che posso metterlo come generale anche magari in caso di sovratensione che può diventare una protezione per i dispositivi per chi ha dei problemi chiaramente qui abbiamo lo storico dei consumi mi dà il consumo totale di elettricità da quando l'ho attivato e il consumo di oggi non abbiamo un grafico un qualcosa che si apre ma se andiamo in elettricità allora abbiamo lo storico del giorno mese e anno niente niente male qui c'è ancora qualche problema di traduzione perché mi dice elettricità inoltrata quando invece è quella consumata prodotto cinese con ancora qualche cosa da migliorare da sistemare però le funzionalità ci sono e mi è piaciuta parecchio la grafica lui lavora tramite software quindi non è un vero magneto termico questa zona qua questo è un interruttore smart gestito dal misuratore che c'è montato a bordo che fa anche da armo e disarmo ma chiaramente se non viene configurato non ha una protezione sua come i veri magneto termici chiaramente montati in un vero quadro elettrico montano bene nella finestra leggermente giusti bisogna sulla parte bassa insistere un po però poi calzano vedete benissimo sporgono al giusto sporgono un pochettino più di un interruttore normale però montano perfettamente avete sempre a vista i led con lo stato e il led che lampeggia wifi con questo lampeggio lento che vuol dire che correttamente collegato li ho poi installati tutti e due ho chiamato un polo e due poli vedete che nell'app però li raffigura nello stesso modo quindi non li diversifica e abbiamo esattamente le stesse funzioni anche a quadro chiuso se avete uno sportello riuscite a vedere lo stato è chiaro che anche in lontananza vi faccio vedere con una luce spenta avete sempre a vista i led del wifi e led rosso che indica dispositivo correttamente armato se non c'è il rosso ma sono tutti e due blu vedete anche a colpo d'occhio anche al buio riuscite a vedere che magari qualche interruttore è saltato personalmente mi piace più il bipolare per una questione anche di cablaggi però se siete risicati con lo spazio potete usare il singolo polo che occupa un modulo in meno e capisco che tante volte non si può fare diversamente poi non vi ho fatto vedere che chiaramente possiamo azionarli e disattivarli anche a mano l'app risponde di conseguenza io adesso li terrò un po montati questi due vediamo se funzionano correttamente in questo caso mi stanno facendo una linea forza e una linea luce è così nel tempo vi saprò anche aggiornare se sono ancora collegati se hanno ricevuto aggiornamenti se è cambiato qualcosa se non hanno preso fuoco e non abbiamo provato i comandi vocali che funzionano perfettamente spegni due poli spegni un polo accendi due poli e chiaramente poi potete creare tutte le routine con tutti i comandi vocali che volete accendi un polo e voilà fighissimo belli allora cosa vi posso dire l'app avete visto che magari ancora un po acerba c'è qualcosina da migliorare mi sarebbe piaciuto e purtroppo manca sempre qualcosina per renderli completa il cento per cento mi sarebbe piaciuto avere le notifiche quindi al superamento di una determinata soglia non fa nulla ma mi manda una notifica diciamo che questo si può ovviare tramite le scene però non ha proprio la funzione sua nativa molto precisi nella misurazione molto interessante che possiamo impostare i watt dove li possiamo usare in qualsiasi cosa possiamo usare lì per una stazione di ricarica un frigo che magari a volte assorbe troppo insomma qualsiasi dispositivo è già immagino che bello sarebbe avere un quadro con tutte le linee sezionate da ognuno di questi in modo da avere sotto controllo anche tutti i consumi di ogni singola linea bellissimo poi quando li vedi che queste cose si animano da solo e col comando vocale a me fa sempre sorridere sono quegli oggetti che provo volentieri perché mi danno soddisfazione quando li vedo in funzione quanto costano 69 euro e 90 la versione monofase a un polo 10 euro in più la versione a due poli per quanto riguarda il trifase 139 90 tre poli 149 90 quattro poli non costano poco ma avete visto che sono fatti bene montano bene lavorano bene hanno un'ottima gestione delle soglie eccetera quindi un buon prodotto sicuramente me ne metterò un po in negozio perché è una cosa che mi chiedono spesso magari un domani vi stupirò con un quadro tutto domotico li tengo qua in prova vediamo come vanno se avete qualche domanda perché magari vedete il video tra qualche mese senza problemi sono qui a disposizione se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla ci vediamo prossimo video prossima diretta il giovedì sera vi ricordo ad agosto sono sospese grazie a tutti ciao da massidattoli